Siamo su un sentiero Elabella Oggi siamo in Elabella stiamo facendo una passeggiata per raggiungere una spiaggia un po' più isolata sul lato oceanico Siamo nella metà atlantica è spettacolare come in palacini pieno di animali, di farfalle afflorate, giganti e buon asciughi Siamo a circa metà del percorso abbiamo già fatto una decina di chilometri ci ne mancano altri 5 se la faranno i nostri eroi a tornare questa sera ok ultima cascata siamo praticamente arrivati 2 ore 2 ore Noi siamo a Bonnecci, siamo a Bonnecci e abbiamo fatto 10 giorni più piedi, 12 e quindi adesso a parte di essere mangiati dietro, però per non tornare indietro a piedi e arrivare di notte andiamo in barca Emociosi Emociosi Emoci Anche So much fun No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Come in questa canzone del mitico Cim Maya, per cui non ho i diritti, abbiamo continuato ad esplorare le bellezze di Ila Bella e della Costa, prima di tornare a San Paolo per il mio volo di ritorno. Giusto in tempo per vedere un po' di carnevale, nonostante fosse vietato dal governo statale. Eccoci qua. Sono sul terrazzo dell'appartamento di Isa. Io sono contento, molto contento di essere venuto a vedere questo paese. Sono rimasto molto sorpreso. Insomma, queste tre settimane per me sono state molto piacevoli e sarebbero più che sufficienti. Se non che ne farò, presumo, almeno un altro paio perché ieri ho perso il mio volo. Non ero in ritardo, ma la mattina sono risultato positivo al covid. Sto benissimo, eppure me la prendo in saccoccia. Ho dovuto rinunciare al volo. Adesso devo stare qui in appartamento a fare un po' di quarantena e appena avrò un risultato negativo potrò prenotare un altro volo. Anche se devo dire che con i venti di guerra che tirano e con Putin che l'altro giorno ha messo l'arsenale nucleare in stato di massima allerta, diciamo che passa anche un po' la voglia di tornare in Europa. Dunque, rimanete in attesa di altri video dal Brasile perché credo che andrò a scoprire qualcos'altro a questo punto. Ciao!